e ben ritrovati allo speciale approfondimento di Gusano News 7 oggi stiamo analizzando quello che è stato il voto di domenica e lunedì in Lombardia e nel Lazio lo stiamo facendo insieme al collega Massimiliano Di Giorgio a cui do nuovamente il benvenuto dicevamo poco prima del break pubblicitario che al di là del trionfo innegabile del centro-destra un trionfo record perché il 53% di Rocca, il 54% di Fontana in Lombardia sono dei dati che non si vedevano da molto tempo, anzi penso nel Lazio mai a direi questo è nata una sorta di polemica invece tra gli sconfitti fra il centro-sinistra e questo centro-sinistra allargato che in Lombardia era alleato con i 5 Stelle e invece in Lazio con il terzo polo andiamo ad ascoltare le parole di Damato subito dopo i dati elettorali il dato nel Lazio che dal mio punto di vista i veri sconfitti è il movimento 5 Stelle, credo che Conte dovrà riflettere sulle scelte che ha compiuto e sulla decisione di non proseguire un'esperienza di governo che ci ha visto alleati, i 5 Stelle sono i veri sconfitti di questa tornata elettorale e vanno ben molto dietro il dato delle precedenti regionali ma vanno anche dietro il dato delle elezioni delle elezioni politiche. Io guiderò l'opposizione in consiglio regionale e desidero ringraziare tutti i volontari tutti coloro che si sono impegnati in questa campagna elettorale che è stata una campagna elettorale straordinaria e veramente grazie a tutti voi, l'ho combattuta come un leone, ci tengo a dire che non mi sono sentito solo perché qualcuno me lo domanda, io ho voluto una campagna elettorale molto legata ai temi del territorio, molto legata ai temi regionali e meno diciamo, meno più svincolata dalle dinamiche di carattere nazionale per cui desidero veramente ringraziare tutta la coalizione, le sette liste che mi hanno sostenuto. Adesso partirà una fase nuova, una fase di costruzione dall'opposizione guardando ai temi che maggiormente hanno caratterizzato questa campagna elettorale ovvero la difesa e la sanità pubblica e una attenzione particolare ai temi delle cosiddette autonomie differenziate che è stato per me ed è per me un elemento assolutamente dirimente anche rispetto alle scelte che dovrà fare il Lazio e che farà il prossimo presidente del Lazio in sede di conferenza Stato-Regione. E allora, per Damato il vero sconfitto è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e sentiamo come ha risposto proprio Giuseppe Conte. Prendiamo atto del risultato di queste campagne elettorali nel Lazio e nella Lombardia, un risultato assolutamente non soddisfacente. Qualcuno ha visto che già sta facendo le dichiarazioni molto segnala campanelli dell'arme, suona le campagne a morto per il Movimento 5 Stelle ma io non esagererei la portata che rimane circoscritta sul piano territoriale a queste elezioni. Contemporaneamente poco fa è uscito un sondaggio che ci dà continuo al trend di crescita a livello nazionale ma questo voglio dire, ripeto, non ci porta a confondere i piani. Aggiungo che dalle prime dichiarazioni vedo che molti, soprattutto da parte del PD, c'è grande concentrazione sulla nostra performance. Io capisco che il PD è in pieno congresso e diciamo ha i suoi problemi interni, però ascoltare il redimivo Letta che sembra voler dalle dichiarazioni entusiastiche, sembra stappare delle bottiglie di champagne sulla performance del PD, francamente se immaginiamo in particolare il Lazio dove c'è un candidato, sono andati dietro, un candidato indicato da Letta e da Calenda, dopo aver governato per dieci anni rimediano e consegnano in particolare perché erano loro, diciamo, i vincenti, i uscenti, consegnano la regione al centro-destra, insomma francamente avrei poco da festeggiare al canto loro. Ovviamente aggiungo un dato che devi far riflettere tutti, è veramente impressionante il dato dell'astenzionismo, è una malattia della nostra democrazia, lo sto dicendo non da oggi, la nostra democrazia è malata, dobbiamo assolutamente cercare, qui dobbiamo essere tutti impegnati a farlo, cercare dei rimedi senza buttare la palla in tribuna, ma degli accorgimenti che possano, come dire, far sentire veramente coinvolti i cittadini in quello che è un dibattito politico-democratico. Allora Massimiliano Rizzordo, questo PD e questo Movimento 5 Stelle che batti beccano fra loro dopo la sconfitta non sembra un po' come i capponi di Renzo di manzoniana memoria. Beh, vabbè, nella polemica ci aggiungerei anche il famoso terzo polo. Certo. Questa cosa continuerà così fino, sicuramente, fino alle europee, cioè è chiaro che ci avremo questa sfida a chi è più bravo, più bello, prende più voti, eccetera, eccetera, fino a alle elezioni europee perché c'è in ballo la, come dire, la valutazione del proprio consenso a livello nazionale. Quindi il prossimo appuntamento da questo punto di vista saranno le europee, quindi fino ad allora non vedremo cose diverse. segnalo che il superamento, diciamo, del PD che il Movimento 5 Stelle agognava non è riuscito, almeno in questa fase nelle regionali. Il PD ha tenuto. Il PD ha tenuto, oppure se è assente sostanzialmente, non tanto dalle pagine politiche perché c'è dentro con la storia delle primarie per le elezioni del suo nuovo segretario, ma sembrava, diciamo, non presentissimo dal punto di vista della campagna elettorale. Ma questo ha riguardato un po' tutti, insomma. E comunque il PD ha tenuto, sta sopra il 20%, che è un risultato sicuramente significativo. Va tutto visto, poi è chiaro, dipende dalla prospettiva con cui guardi le cose. Se la prospettiva, cioè se l'attesa era quella del PD che franava, ecco, non è franato come poteva, cioè non è franato quanto poteva franare. Questo significa, questo significa quindi che il tentativo di sorpasso che attua da una parte del Movimento 5 Stelle, dall'altra parte Calenda e Renzi, per il momento non è in vista, quindi dovremmo ritentare la volta successiva. Quindi forse dopo l'Europe, sulla base di quelli che saranno i risultati, magari potrebbero accadere delle cose, poi dipende anche da chi sarà il prossimo segretario del PD. Però insomma, non mi pare che questa roba finisca qua adesso. Sì, la cosa un po' particolare è che in queste elezioni c'erano delle alleanze un po' variabili. Il centro-sinistra si è rappresentato nel Lazio in un modo, in Lombardia in un altro, non ha funzionato da una parte, non ha funzionato dall'altra. Come ha detto qualcuno, erano alleati sicuri dove perdevano sicuro, invece non erano alleati dove avrebbero potuto vincere. Ecco, diciamo che questa forse è un po' la cifra della situazione. Quindi l'Italia è effettivamente diventata un paese di destra o semplicemente la destra vince perché non ci sono avversari, stanno lì fermi ad aspettare sul fiume il cadavere del nemico senza dover fare grandi sforzi. Questo è un po' più complicato, nel senso che all'interno della quella che chiamiamo la destra o il centro-destra o che io chiamo la destra-centro, gli equilibri sono cambiati nel corso, diciamo, di questi trent'anni. C'è sempre stato, è chiaro che è più forte la destra, quella che possiamo chiamare come la destra, cioè fra la fattispecie Fratelli d'Italia e la Lega, che è un'altra roba che è cambiata nel corso del tempo, perché non era esattamente così. Quindi non credo che l'Italia sia necessariamente un paese di destra come ne è stata un paese di centrosinistra quando vinceva Prodi o ecco in queste circostanze qua. Diciamo che normalmente, come succede quasi dappertutto, l'establishment, quello che è più percepito come establishment, vince. Ormai potremmo anche dire che l'establishment vero va comunque il centro-destra vero risponde più successo di un centro-destra d'imitazione. Ecco, questo per essere un po' polemici. Nel senso che se non c'è una netta distinzione forse è anche più difficile capire che cosa andare a votare. Però non dimentichiamo che c'è stata una grossa contrapposizione per decenni in Italia tra due schieramenti che spesso erano differenti. Cioè mi riferisco al centro-destra, non era centro-destra, insomma lo era in parte quello che faceva Perno sulla Repubblica Cristiana e la sinistra che faceva Perno invece sul Partito Comunista, in cui c'era una differenza che poteva essere percepita su alcune cose, non su tutto ovviamente perché poi andando a vedere quante volte votavano insieme ai partiti in Parlamento, questo sembra sempre sorprendente, insomma succedeva più spesso di quanto uno immaginasse, ed era anche il mondo bipolare eccetera eccetera, quindi è vero che nella democrazia cristiana c'è gente che oggi è finita nel PD o anche più a sinistra del PD, quindi dire che l'Italia oggi è più di destra non credo che sia la definizione più giusta. Sicuramente continua la sintonia in questo momento di Meloni, Giorgia Meloni, con l'elettorato, sono passati soltanto 100 giorni che non sono tantissimi e per il momento mi sembra che gli elettori non vedano grandi robe alternative. Io ringrazio moltissimo Similiano Di Giorgio, grazie per questa analisi del voto di domenica e lunedì e magari ci risentiremo, spero di riaverti a breve ospite per affrontare anche altre questioni politiche e non. Ok, a presto, allora grazie mille e grazie a chi ci ha ascoltato. E anche io ringrazio chi ci ha ascoltato, grazie per essere stati con noi e buona prosecuzione ora con gli altri programmi di Cusano News 7.